Questo è il quartiere Topolo, una volta motore dell'economia solofrana. Qui si installarono le prime concerie, ora simbolo di De Grato. Rappresenta il più duro banco di prova per l'amministrazione comunale Vignola alle prese con il nuovo piano urbanistico. Topolo e Balsami si prevede di recuperare alcuni edifici storici importanti che sono la memoria della nostra cittadina, soprattutto prevedendo la costruzione di strade, di zone verdi, di sfruttare l'esistente con una riqualificazione portata verso il terziario. E poi dove non si potrà fare questo in loco ci sarà uno strumento perequativo che per i proprietari di questa zona darà l'opportunità di spostarsi nella frazione Sant'Andrea per dargli l'opportunità di intraprendere delle nuove azioni di costruzione appunto nello spirito della perequazione.